Dall'altra parte è la forza di Draghi, perché Draghi è una persona che ha una triplice esperienza importantissima. Direttore generale del Tesoro, governatore della Banca d'Italia e presidente della Banca Centrale Europea. Quindi è una persona che ha un'esperienza di istituzioni complesse, perché tutte e tre queste istituzioni sono molto complesse. Diciamo che la sua esperienza lo mette nelle condizioni di essere un ottimo presidente del Consiglio e un ottimo presidente della Repubblica. Ed eccoci qua, torniamo al punto da cui eravamo partiti. Professor Cassese, la devo salutare perché davvero ho sforato tutti i tempi possibili, è stato come sempre un piacere. Poi ovviamente se diventa lei presidente della Repubblica ci tenga presente, ci porti nel cuore, ecco, questo solo voglio dire. Che Dio ci guardi da queste cose. Grazie professore, a presto, a presto, davvero grazie. Arrivederci, arrivederci alla direttrice Pini. Saluto Silvia.